Cliff Richard, scagionato dai sospetti di abusi sessuali su minori. Contro il cantante britannico le prove sarebbero insufficienti, secondo l'ufficio della procura. Richard, che fu fatto anche baronetto dalla regina, era stato accusato da parte di quattro persone di abusi e molestie che si sarebbero verificati fra gli anni 60 e l'inizio degli anni 80.